Eh sì, questo video inizia con una insensità abbastanza ovvia Sì, perché purtroppo abbiamo perso il 70% di quello che abbiamo fatto E quindi vi mostrerò soltanto la metà del video fatto E come spiegare? Va bene, ora godetevi il video No, godetevi il video Questo movimento boccale No, godetevi il video Pure tu? Riposto, è un impasto fantastico Tu devi dire, attento, è ripido No, non devi parlare No, 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 no Attento, è ripido Mentre sta scendendo, dillo prima Attento, è ripido Cazzo, dillo prima Oh Oh Entra prima Oh 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 Adesso mi vendicherò io Oh È sudato È sudato Io direi che può anche bastare Aspetta 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 Oh 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 Un lavoraccio Sì E adesso La riparazione Prendo il sacco Prendo il sacco Funziona Tutto 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 Si Può bastare Ora chiudiamo Dai Ah T'ho capito coglione Ora chiudiamo Bravo Ok Ora non ci rimane Che accendela Sblocco riuscito Ancora accensione Ancora Attenzione E' partita Si Ma questo che fa bruciare Quelli Brucia quelli Sì Un canello Sblocco 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 Per A Purtroppo Non abbiamo Dudi Cappelli Perchè Un cazzone Non ceva E Allora Niente Riccardo Come va la vita bene tu io bene bene così ti prego sentite ragazzi non ci faccio più ma ogni volta che prende qualcosa lui ci gioca facciamo così vediamo questo giacca va bene eh sì sì bellissima la stanza mi ricordo tanto il Natale mi ricordo a te te lo ricorda come no basta scusci scusci ma non la mangia lascia per te fatti vedere fatti vedere uno su uno e due no veramente la mangia dai due scusa tre scusa sono appiccicosi ma questo non è di Natale però almeno il bianco il bianco c'è perché non suona il bianco c'è bianco c'è fa riccardo guarda che sto sugli occhi beh come salutarvi di Natale guarda No, 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 no!